Rientriamo in onda qui su Play, ve l'ho detto oggi un'altra di quelle puntate insomma in cui il minutaggio dedicato al conflitto esploso in Israele, tra Israele e Hamas in particolare insomma questo minutaggio occupa una buona percentuale della puntata di quest'oggi ma forse anche inevitabile in questi giorni e insomma se c'eravamo a un certo punto immaginati che discutere di tutte le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina fosse qualcosa di immensamente delicato e complicato qui forse da questo punto di vista siamo ancora su un altro livello. Proviamo a parlarne con chi è per fortuna non così vicino ma piuttosto vicino all'area coinvolta, lo raggiungiamo in Libano, il nostro collega a voce molto nota per gli ascoltatori di RBE Marco Magnano, ciao bentornato. Buongiorno Alessio, grazie. Consentimi una battuta, queste puntate di Play somigliano un po' a un cominciamo bene come livello di copertura relativa proprio a quest'area al Mediterraneo sudorientale e di solito non è una buona notizia. No esatto e non a caso comunque vengo a cercare appunto te per farmi raccontare qualche cosa intanto insomma ragioniamo un po' su qual è l'atmosfera lì in Libano che è uno dei paesi che viene molto citato in questo periodo per appunto il ruolo possibile di Esbolla in un possibile allargamento di fronte. Insomma cominciamo proprio dal lato più umano e insomma di atmosfera che si prova. C'è la tensione di uno scontro imminente oppure forse no? Allora partiamo di qua effettivamente, è molto difficile dirlo, è anche difficile dire se ci sia realmente tensione per qualcosa di imminente o solo per il timore che possa in qualche modo emergere qualcosa di imminente. Diciamo sono diversi gradi di percezione, questo perché? Perché è molto difficile parlare di Libano in modo unitario, uniforme, omogeneo. Il Libano è un paese estremamente diviso non solo da un punto di vista di microterritori ma per le comunità che vivono questi microterritori e anche per come tutto questo si riflette sulla situazione politica nazionale, subragionale e regionale. Cosa voglio dire? All'interno del Libano abbiamo, adesso lasciando un po' da parte il nord in questo momento, però abbiamo diciamo tre anime principali che possono essere a vario titolo coinvolte in questa vicenda. Una è il governo nazionale guidato da Najib Nikati, Tripolino, Sunnita che ha immediatamente messo le mani avanti dicendo, e vi riporto direttamente la citazione, i paesi che sono nostri fratelli vogliono mantenere il Libano al sicuro dalle ripercussioni della situazione esplosiva nei territori palestinesi. Una sorta di passo indietro presa di distanza. Poi abbiamo una grande comunità palestinese, mal tollerata dai libanesi, in particolare dai libanesi cristiani, ma da molte delle comunità nel paese e questi vivono in condizioni molto allarmanti. Dal 1948 alcuni, dal 1956 altri, dal 1967 moltissimi altri. Qui l'aria che si respira è bivalente. Da un lato c'è stata una certa esultanza nel momento in cui c'è stato l'attacco di Hamas verso Israele. Quando si è capito che era qualcosa di un po' diverso rispetto al solito, poi magari ci torniamo tra poco, c'è stata una fase di grande esultanza da parte di alcuni naturalmente, perché poi è difficile avere il polso di un'intera società. È come pensare di avere il polso dell'intera popolazione italiana. È sempre sbagliato generalizzare in questo modo. Però, diciamo, la parte rumorosa era di esultanza. E si può anche capire da dove arriva. Un secondo dopo, o meglio, contemporaneamente, si è però sviluppato un sentimento di grande paura, di grande preoccupazione. Questo vale anche per chi vive in Cisgiordania, nella cosiddetta West Bank. La terza anima, potenzialmente coinvolta, è invece, appunto, e l'hai citata, Alessio, è Hezbollah, ovvero il partito sciita, figlio iraniano, che è un alleato molto innaturale di Hamas. Quando dico molto innaturale, non mi riferisco soltanto alla loro natura confessionale. Un gruppo è sciita, Hezbollah, Hamas e sunnita, come praticamente la stragrande maggioranza della popolazione palestinese, e non è che sia così rilevante. Ma è soprattutto per le alleanze geopolitiche. Hamas ha avuto il sostegno del Golfo, ha avuto il sostegno dell'Egitto in passato, ai tempi dei fratelli musulmani, ha avuto il sostegno della Turchia. Negli ultimi anni si è un po' avvicinata all'Iran, principalmente per la natura di nemico comune costituita da Tel Aviv, da Gerusalemme. Ecco, queste tre anime, che vediamo in Libano, reagiscono tutte in modo differente. Mi concentrerei realisticamente su Hezbollah, per due motivi. Uno, perché è parte più coinvolta nel conflitto, potenzialmente, e due, perché è il partito di riferimento del sud del Libano, ovvero di quella zona di subduzione in cui in questi giorni si sono verificati degli scontri. Diciamo così, abbastanza intensità. Esatto, mi dicevi già anche fuori onda che l'impressione è che insomma non sembra esserci più l'intenzione di intensificare ancora questo conflitto, più che altro perché la risposta che c'è già subito stata da parte dell'esercito istraeliano sugli attacchi di Hezbollah è stata, insomma, ad un livello tale che forse ha subito azzerato alcune velleità. Questa sembra essere un po' l'idea. Ma, allora, questo è difficile da dire perché, a dire il vero, allora, qui bisogna fare una sorta di piccolo passo indietro. C'è un alnetto dei vari conflitti in cui Hezbollah e Israele sono stati coinvolti o in cui si sono scontrati in modo diretto. Pensiamo alla ultima parte della guerra civile libanese, quindi diciamo dal 1982-83 fino al 2000, in realtà una lunghissima coda della guerra civile libanese, ma ancora di più durante l'invasione israeliana del 2006 c'è stato uno scontro diretto, ma c'è un punto del contendere che è una sorta di patto diplomatico o patto armato tra i due partiti, tra i due paesi o il partito e il paese e sono le fattorie di Sheba. Le fattorie di Sheba si trovano esattamente divise a metà nel confine tra Libano e Israele in una zona un po' interna, diciamo, partendo dalla costa si va verso l'interno, verso l'altura del Golan, che invece sono siriane ma occupate da Israele e lì si trovano a metà strada le fattorie di Sheba, area occupata da Israele nel 1967. Ora, se bisogna fare qualche rivendicazione o bisogna mandare un messaggio politico tramite dei razzi, lo si fa lì e infatti è successo anche questa volta. Allora è per questo che c'è tensione, c'è molta preoccupazione, ma finora tutto è avvenuto in modo molto codificato. Esbola ha lanciato dei razzi, sabato dicendo li lanciamo in solidarietà con l'iniziativa di Hamas, che, attenzione, le parole sono fondamentali nei comunicati stampa in tutto il mondo, ma in quest'area e andando sempre verso est ancora di più. Utilizzare la parola in solidarietà significa che è un'azione simbolica, non sono coinvolto direttamente, ma dico ai miei fratelli, bravi, bravi, festeggiamo con voi. Quindi questi sono dei razzi celebrativi in qualche modo, se vogliamo metterla un po' sul ridere. La risposta israeliana è stata più o meno uguale e opposta. Va anche detto, e qui la stampa italiana mi dispiace, non ci ha capito moltissimo. Riguardo invece a quanto è avvenuto il lunedì, che in molti si aspettavano potesse essere un inizio di escalation. Lì ci sono stati due fattori congiunti. Da un lato c'è stato un lancio di razzi di Esbola, ma dall'altro un piccolo gruppo, non meglio identificato, qualcuno dice legato a Hamas, qualcuno dice legato al gruppo jihad islamico palestinese, che è vicino a Hamas, ma non è la stessa cosa, ha cercato di superare il confine tra Libano e Israele, quindi entrare via terra in Israele. La risposta è stata contro di loro e in parte ha colpito anche dei miliziani di Esbola, o meglio, dei civili, che poi essendo nel sud vengono considerati martiri di Esbola, perché poi c'è questa iperestensione dell'appartenenza. Ecco, tutto questo quindi ha fatto pensare un imminente potenziale escalation. Non siamo ancora lì, anche se va detto, dal sud, proprio dalle zone di confine, molti abitanti hanno preferito ritirarsi verso nord, sono andate a tiro, oppure stanno venendo verso Beirut, dove molti hanno dei parenti. Questo è un elemento che non ci lascia stare del tutto tranquilli, almeno per ore. Chiaro, insomma, per ritornare al discorso della guerra in Ucraina, se ci ha insegnato qualcosa quella guerra, che prevedere qualsiasi cosa al di là del giorno successivo è decisamente impossibile e non te lo chiedo. Allora chiudo facendoti invece una domanda guardando all'indietro, e cioè una delle parole che hanno accompagnato tutto quello che sta succedendo è stata sorpresa, nel senso non è necessariamente sorprendente che Hamas abbia delle volontà aggressive nei confronti di Israele, considerando tutta la situazione che si è creata con il blocco totale di Gaza da parte di Israele, con tutta la persecuzione in corso ormai da vari decenni. Però questo tipo di attacco ha sorpreso, un attacco via terra che ha colto di sorpresa forse gli stessi israeliani. Ecco, era effettivamente qualcosa che è successo dal nulla o tu che sei relativamente più vicino a noi alla situazione avevi, insomma, si aveva un qualche sentore di qualcosa di simile? Allora, la risposta è sì e no, ma cercando di tenerla un po' asciutta per motivi di tempo, sì, è stata una sorpresa enorme, enorme più che altro per come non è stata immediatamente rintuzzata. Voglio dire, di iniziative di Hamas dalla striccia di Gaza verso Israele, se ne verificano tante e spesso, anzi, con un certo cinismo, chi osserva queste vicende ironizza anche un po' sul scarsissimo tasso di successo degli attacchi di Hamas verso Israele. Ne parlavo ieri sera con dei colleghi che hanno vissuto anche a Gaza durante precedenti operazioni militari e dicevano, eh, quando un razzo su dieci, venti superava il confine e magari toccava terra nel nulla, beh, era già un trionfo perché su dieci razzi tre esplodevano durante il trasporto, tre cadevano sui piedi di chi lanciava, tre venivano bloccati dall'Iron Dome e uno passava il confine ma normalmente non creava particolari problemi. Questa volta tutto è stato completamente differente. Ora, l'altro livello di sorpresa è stato che però non ci sia stata un'ulteriore pianificazione da parte di Hamas. Quest'azione è stata violentissima, insensata da un punto di vista strategico, se proprio vogliamo dirlo in questo modo e ci limitiamo quello che succede sul campo, perché poi qui si aprirebbero numerose altre considerazioni e non particolarmente differente in termini di mezzi. Quindi la vera sorpresa è stata questa. Ha avuto successo, certo, successo dal loro punto di vista perché ora le conseguenze su Gaza sono pressoché incalcolabili e ancora di più, pensando dal punto di vista occidentale, ma questo a Hamas non mi interessa, chiaramente questa azione segna un prima o un dopo anche nell'idea che abbiamo della causa palestinese. Io penso a degli adolescenti di oggi che vedono questa azione un po' come l'assedio al Bataclan o come l'11 settembre, ovvero come qualcosa di incivile e indifendibile. Così è in effetti, ma come tra l'altro ha fatto qualche testata italiana, far partire la storia da tre giorni fa, dimenticando i precedenti 75 anni, è molto scorretto da un punto di vista proprio della ricostruzione della vicenda. E attenzione, questo non vuol dire in alcun modo giustificare quello che è successo, ma anche se non si vuole giustificare qualcosa bisogna studiarlo per capirlo. E ho citato il Bataclan perché anche quello non nasce il giorno del Bataclan, anche quella vicenda ha una sua storia che non permette di comprenderla o di giustificarla, ma che deve farci ragionare su come si arriva a certi punti, perché altrimenti possiamo pensare che qualcuno si sia svegliato un giorno dicendo andiamo a uccidere mille ebrei. Non è esattamente questo. Cioè queste persone sì, ma quel tessuto culturale ha delle radici un po' più lunghe. E facciamoci sempre molta attenzione. Sì esatto, l'errore che vedo molto spesso è quello di equiparare a masse palestinesi, che non è la stessa cosa e insomma sappiamo che come in qualsiasi conflitto, ma forse ancora più in questo, alla fin fine a rimetterci gravemente saranno i civili, ci hanno rimesso i civili israeliani in questa primissima fase, ci stanno rimettendo moltissimi civili palestinesi. Insomma, come dici tu, ci sarebbe tantissimo da dirci, ma che arriveremo ancora a modo di risentirci più avanti, sperando davvero appunto che quello che ci stai dicendo rimanga tale per quanto riguarda il Libano, quindi non si allarghi ancora il conflitto. Insomma, grazie davvero Marco, sempre un piacere e alla prossima. Grazie Alessio, grazie a tutti.